Che cosa avete chiesto in questo incontro del 28 che poi non è stato accolto? Allora, noi non solo nell'incontro del 28, questo problema lo poniamo dalla fine di luglio. Abbiamo chiesto praticamente di poter operare in maniera continuativa durante la settimana e visto la carenza di personale che abbiamo e i BEC e gli uffici che sono chiusi il sabato, di poter concentrare la nostra presenza al lavoro durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, e rimanere chiusi il sabato, a parte per fare le denunce di morte, che è un servizio che diamo costantemente, di poter rimanere aperto per poter concentrare la nostra operatività durante questi giorni della settimana in considerazione del fatto che c'è anche la possibilità di poter prendere appuntamenti e quindi poter dare un servizio nell'immediato al cittadino senza dover fare nessuna fila. E non possiamo, secondo noi, neanche aspettare l'arrivo di altre persone, non perché non sono importanti e fondamentali, ma perché non ci aiutano a smaltire questa nostra richiesta e questa nostra situazione. Quando si possono chiedere questi appuntamenti? In quali orari? Allora, gli appuntamenti possono essere richiesti durante tutta la settimana, dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, e il martedì e il giovedì 8.30 alle 13.30, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30. La massa di persone che si rivolge allo sportello unico supera le 100.000 unità all'anno, quindi ci sono dei giorni che rappresentano veramente una situazione di criticità. Noi veniamo già da due stati in cui facciamo solamente le carte d'identità, per la necessità delle carte d'identità, argomento che è anche meno sostenibile considerando che le carte d'identità non vengono più consegnate in mano, ma arrivano dopo sei giorni dallo Stato, quindi non le facciamo noi, se non in casi estremi, quindi non c'è neanche più questa necessità. E tenevamo aperti questo, è un servizio che ha funzionato per tutta l'estate abbastanza bene, il meglio era continuare eventualmente con un servizio del genere, perché la cittadinanza si è abito, e non è bello quando un cittadino si mette a sedere e alla fine bisogna dirgli no, ritorni perché il becchio è chiuso, oppure perché la pratica non la possiamo ultimare, perché mancano alcune cose, quindi l'operatività deve essere quella. Con un appuntamento uno si mette a sedere e non fa le file.